Nel video di oggi faremo un'analisi comparativa tra due cerrimi rivali Intel e AMD Quindi non perdetevi questo video Ciao io sono Davide e se ti piace la finanza personale, gli investimenti e il value investing Allora potresti considerare l'idea di iscriverti a questo canale attivando la campanella Se non vuoi perderti due video a settimana che parlano proprio di questi argomenti Il metodo con cui faremo quest'analisi comparativa è lo stesso adottato sull'altro video fatto tra Coca Cola contro Pepsi Quindi se te lo sei perso ti lascio il link in descrizione Quest'analisi quindi verrà fatta confrontando i vari indici e rapporti delle due aziende relativi a redditività, profittabilità, valutazione eccetera Prima di iniziare però vorrei fare un disclaimer Per ragioni di trasparenza e correttezza vi devo dire che io ho in portafoglio una di queste due aziende E se seguite da un po' il mio canale avete capito ormai quale delle due ho in portafoglio Ditelo voi Esatto, Intel Ma bando alle ciance andiamo a vedere subito questa analisi comparativa Eccoci qua ragazzi con questa nostra analisi Allora abbiamo Intel contro AMD Prima differenza le dimensioni Ok? E questo come vedremo in seguito secondo me è una differenza importante Allora come potete vedere la capitalizzazione di Intel è 226 miliardi 92 quella di AMD Secondo dato secondo me che potrebbe interessare ad alcuni di voi è il beta Il beta inferiore ad 1 vuol dire che è un'azienda meno volatile mediamente del mercato Un beta superiore ad 1 vuol dire che è più volatile del mercato Come potete vedere AMD è un'azienda che regala un bel po' di emozioni Perché abbiamo un beta superiore a 2 quindi vuol dire che la volatilità di AMD è doppia rispetto a quella del mercato Di conseguenza già qua potreste scartare AMD se ad esempio non vi piacciono le forti emozioni Non vi piacciono le montagne russe Se invece come me me ne frega poco di come si muove un'azione Allora andiamo avanti non considerando questo parametro Abbiamo il prezzo, abbiamo l'olimpe share, fatturato Già qua potete vedere che il fatturato di Intel è molto più grande, molto più elevato di AMD Così come l'utile netto Quindi stiamo parlando di Davide contro Golia a livello di fatturato e utile Andiamo a vedere però alcuni indicatori che ci possono far capire meglio le performance delle due aziende Redditività ad esempio I tre classici indicatori ROE, ROA e ROIC Dove AMD vince a mani basse Quindi per quanto riguarda la redditività AMD stravince Lisa Su che è l'amministratore delegato di AMD Da quando è arrivata AMD ha dato veramente una nuova vita a questa azienda Stanno facendo un lavoro fantastico e i numeri parlano chiaro AMD riesce a sfruttare molto meglio il capitale a disposizione rispetto ad Intel È molto più efficiente da questo punto di vista E i risultati in borsa chiaramente seguono i fondamentali dell'azienda Infatti AMD negli ultimi anni è schizzato come prezzo Marginalità Qua invece si ribalta un po' la situazione Perché Intel presenta le marginalità migliori E questo sicuramente è dovuto al fatto che ha delle fonderie interne di proprietà Quindi Intel riesce ad autoprodursi i processori E non avendo un intermediario di mezzo che ad esempio potrebbe essere ISMC per AMD Riesce a strappare dei prezzi migliori Oltre che chiaramente ad avere un maggior controllo sulla produzione Sulla qualità dei prodotti e così via Quindi da questo punto di vista Intel vince Anche se come potete vedere man mano che andiamo a scendere nella marginalità Arriviamo al net income margin Non è che c'è questa differenza così esagerata E la differenza si va a ribaltare nel caso del pre cash flow margin Nel senso che AMD riesce a ricavare dal fatturato il 24% di pre cash flow E questo è un dato molto interessante Vuol dire che Intel è vero che fa un mare di soldi in più rispetto ad AMD Però alla fine gliene ne mancano meno in tasca Perché Intel è diventato ormai un elefante nel corso dei decenni Nel senso che da semplicemente chip maker Produttore di processori è diventata un'azienda operativa in diversi ambiti Va a realizzare memorie Opera nel clouding Opera nell'intelligenza artificiale E così via Quindi quando hai tanti segmenti da seguire Può capitare che non sei competitivo in tutti i segmenti E chiaramente le marginalità si vanno a far benedire Anche se c'è da dire che di recente Intel è consapevole di questo problema E ha deciso di chiudere alcuni segmenti dell'azienda Alcuni esami produttivi Come ad esempio quello delle memorie Dove comunque Intel non riesce a dare un valore aggiunto E' troppo soggetto alla concorrenza Quindi piuttosto che portarsi a casa pochi spiccioli Decideranno di chiudere queste attività per migliorare la marginalità E per quanto riguarda però il free cash flow magico Dobbiamo dire che AMD è un'azienda che è da poco che ha un free cash flow positivo Quindi stiamo parlando ancora di una realtà da un certo punto di vista acerba Quindi bisogna vedere come si muoveranno i flussi di cassa nel futuro Mentre quella di Intel è consolidata come realtà Quindi sappiamo benissimo cosa stiamo andando a comprare a livello di ritorno di flussi di cassa Solvibilità di breve termine Buona quella di Intel Ottima quella di AMD Solvibilità di lungo termine Buona per Intel Ottima anche in questo caso per AMD Che veramente ha pochissimo debito E per quanto riguarda la crescita Può sembrare da questo grafico Che Intel se la passi meglio Ed effettivamente è così se andiamo a vedere gli ultimi 5 anni Perché se andiamo a vedere la crescita di fatturato Ibita Earnings per share E free cash flow level Negli ultimi 5 anni Intel è cresciuta di più Ma per il semplice fatto che AMD è profittevole da 3 anni alla fine Infatti se andiamo a vedere il confronto Sugli ultimi 3 anni I dati di crescita di AMD Sono straordinari Cioè sono dei dati fantastici Come potete vedere Però perché con si dati 5 anni Perché comunque in azienda si guardano sempre nel lungo termine Quindi come fatto con Coca-Cola contro Pepsi Abbiamo preso gli ultimi 5 anni Anche quando sembrava giusto Dirvi che negli ultimi 5 anni Solo 3 esercizi per AMD Sono stati diciamo positivi A livello Di profitti Per quanto riguarda invece i dividendi AMD non dà dividendi Mentre Intel può essere un'ottima azienda da dividendi Soprattutto in prospettiva Quindi chi cerca dividendi Sul lungo termine Anche quindi dividendi in crescita Intel potrebbe essere una buona scelta Perché innanzitutto ha un dividend yield Del 2,35% Che comunque per un'azienda high tech Non è male Ma soprattutto ha un payout ratio basso Del 27%, quindi vuol dire che c'è tanto margine Tanto spazio per aumentare questi dividendi in futuro Infatti la crescita degli ultimi 5 anni La crescita media del dividendo È stata del 6,26% all'anno Quindi non male Considerando che stiamo parlando di un'azienda Che comunque negli ultimi 5 anni È cresciuta anche a livello di capital gain Valutazione E qua secondo me fa Quest'ultimo blocco Fa tanta data differenza Comunque come potete vedere AMD ha dei molti più molto più alti Rispetto ad Intel Ok? Guardate ad esempio Il PE parliamo di più del doppio Price to sales parliamo del triplo E tutti gli altri valori Come potete vedere Sono tutti molto più alti Rispetto all'Intel Intel tra l'altro Ha anche un ottimo Free cash flow yield Dell'8,2 Quindi tutto quello che è dall'8% in su Come free cash flow yield Ci fa capire che Potenzialmente Intel è sottovalutata Perché i multipli di Intel Quindi sono così bassi Quelli della valutazione Perché Intel negli ultimi anni Si è vista togliere da solta al naso Tantissimi cuori di mercato Da parte di AMD Che hanno lavorato benissimo Hanno fatto veramente Dei prodotti straordinari Più performanti di quelli di Intel E chiaramente il mercato Ha riconosciuto La superiorità dei processori AMD e Ryzen E di conseguenza Fatturato, profitti Sono aumentati per AMD E nel lungo termine Il prezzo in borsa E seconda cosa Anche per quanto riguarda Il settore data center Quindi quello che non è legato Ai processori Il mercato si aspettava Molto di più Da parte di Intel Che comunque Ha deluso le aspettative Quindi Principalmente questi due fattori Hanno portato giù Il prezzo di Intel E andando a fare comunque Un riassunto Di questa comparazione Attualmente AMD È sicuramente Migliore rispetto a Intel Come azienda Perché comunque Come abbiamo detto Come marginalità Sì Non c'è tutta questa differenza Anzi Andiamo a vedere Il pre-cash flow È vero che possiamo contare Solo su due anni Di positività Però al momento Stiamo facendo Un pre-cash flow Magin superiore AMD è superiore Anche per quanto riguarda Situazione di debito La crescita Che sicuramente Magari non crescerà Di questi valori Nei prossimi anni Ma comunque Crescerà Molto di più Rispetto a Intel Dividendi invece Se Vi gustano I dividendi Potreste scegliere Intel Valutazione E' quello che Alla fine Mi ha fatto scegliere A luglio era Bello male Sì Di comprare Intel Perché Comprare Un'azienda Straordinaria Un'azienda Eccezionale Come AMD Ma al prezzo Sbagliato Può trasformarsi In un pessimo Investimento In un pessimo Affare Nel senso che Non possiamo pagare Un'azione Qualsiasi prezzo Solo per il semplice Fatto che Crescerà nel futuro Probabilmente Ok Quindi Dal punto di vista Dell'investimento Dall'ottica Dell'investimento Intel E' quella che Secondo me Dai I rendimenti maggiori Li dà ancora oggi E li dava ancora di più Quando l'ho comprata io Perché l'ho comprata Sotto i 50 Dollari d'azione Erano tipo 48 49 dollari Poi c'è da dire una cosa Che AMD E' stata bravissima Ok Lisa Su Ha lavorato veramente Alla grande Ma AMD Ha fatto molto bene Soprattutto per Demerito Di Intel Perché Quelli di Intel Hanno dormito In questi anni Il vecchio amministratore Delegato di Intel Bob Swan Ha veramente dormito E si è fatto bruciare Dieci anni Di margine Che aveva Su AMD A livello di Performance Di processori Perché ha focalizzato A mio avviso Troppo L'attenzione Troppo L'attenzione Su tanti settori Differenti Cercando di entrare In tanti business Diversi Dove spesso Non riusciva Ad essere competitivo E quindi Molte risorse Invece Invece di essere Focalizzato Nei business Dove Intel È più brava Diciamo Più riconosciuta Ha sperperato Un po' Il budget Ok Per fortuna Se l'era accorto Nell'ultimo periodo Diciamo In cui era In Intel Concentrando Maggiormente L'attenzione Su migliorare Le performance Dei processori Infatti Già l'undicesima Generazione Dei processori Intel A mio avviso E anche avviso Di molti esperti È competitiva Con AMD E probabilmente Con un nuovo Amministratore delegato Che qualche mese Ha preso Il comando Di Intel La situazione Mi interrerà ancora Perché ha detto Di voler far tornare Intel Ad essere Il leader Per quando riguarda Le performance Nei processori Poi comunque Ho comprato Intel Perché ci vedo Dei bei catalizzatori Per il futuro Ed alcuni Si sono aggiunti Di recente Negli ultimi mesi Ci sono state Alcune notizie Da parte Dei vertici Di Intel Che sicuramente Hanno aumentato Le valutazioni La stima Del fair value Che ho fatto io L'anno scorso Il primo catalizzatore È l'apertura È l'apertura Ai fornitori esterni Intel Ha deciso Che si rivolgerà Per alcune tipologie Di processore A dei fornitori esterni Quindi questo Mi consentirà Di essere Molto più veloce Nel lanciare Sul mercato Determine Tipologie di prodotti E magari A diversificare In altre tipologie Di settore Che attualmente Non riesce a coprire Ma L'esternalizzazione Riguarderà Solo una piccola parte Della produzione Perché il grosso Di Intel Verrà mantenuto Internamente Come produzione E questo è il vero Poi vantaggio competitivo Di Intel Contra AMD Perché Come abbiamo visto Qua nella marginalità Il gross profit margin È superiore Rispetto a quella di AMD Proprio Per il fatto Che Intel Riesce a internalizzare I processi produttivi Poi Altro catalizzatore Positivo Per il futuro È che Intel Ha deciso Che faranno Il conto terzo Sarà Intel A creare Processori Per chi ne Parà richiesta Quindi Sono un'azienda Che ha bisogno Di un processore Non lo so Per il mio drone O per la mia auto Intel Potrebbe fornire Il servizio Di realizzazione Del processore Ok E in una situazione Di deficit Di processori Sul mercato Che stiamo vivendo adesso Questa di Intel Mi sembra veramente Un'ottima mossa Terzo Catalizzatore È Mobileye Mobileye È un'azienda Che fa parte Del gruppo Di Intel Che ha acquistato Qualche anno fa Attivo nella guida Autonoma E che ha visto Negli ultimi anni Raddoppiare I propri risultati A livello di Ricavi E profitti In quanto È attualmente L'unica azienda Al mondo Ad aver risolto Il problema Della mappatura Delle varie aree Geografiche Per quanto riguarda Poi la guida Autonoma Perché Gli altri I suoi competitor Hanno bisogno Di mappare Una determinata area Prima di poterci mettere Poi un veicolo Che si guida da solo Mentre Con la tecnologia Di Mobileye Questo Non è richiesto Non è necessario Perché Sfrutta Un complesso sistema Di telecamere Per funzionare Quindi attraverso La vista Diciamo Riesce Sfruttando L'intelligenza artificiale Riesce a capire Quando fermarsi Quando dare la precedenza Quando fa passare Il pedone Quando c'è una buca E così via Cosa che i competitor Non riescono a fare Se non hanno invece Una mappatura A disposizione Dell'area Che Chiaramente Nel tempo Può anche cambiare E attualmente Mobileye Sta lavorando Con BMW Volvo Nio Volkswagen Per fornire Questi Questa tecnologia Anzi Ce n'è di più Nel 2023 Quindi Tra un paio d'anni È già previsto Il lancio Di un servizio Di delivery Di merce Di prodotti Dove Ci sono In pratica Dei van Senza autista Quindi proprio Senza la cabina Di guida Che andranno Per la città A far consegne Da soli E chiaramente Il vantaggio È che va a eliminare Il costo Del guidatore E va a fare Maggiore spazio Perché non essendoci La cabina Possiamo Mettere più merce All'interno Di questo van Entro il 2028 Di questi van È programmato La produzione Di 35.000 Veicoli Quindi secondo me Questo di Mobileye È un fattore È un asset Che il mercato Sta sottovalutando Di Intel Ritornando al settore Di processori Secondo me Intel Tornerà Ad essere Presto Nel giro Di poco tempo Di nuovo Il leader In contrastato Dei processori Perché Questo è un settore Dove il prodotto Conta molto Dove le prestazioni Le performance Del prodotto Fanno tutta la differenza Infatti Nonostante Intel Forse il brand dominante Dei processori Da decenni AMD È riuscito a rubare Parecchie cose Del mercato Perché faceva Dei prodotti Semplicemente Migliori Più performanti Processori Più veloci Ma Essendo questo Un settore Dove il capitale Il budget Conta tanto Perché più investi In ricerca e sviluppo Più riesci a fare Prodotti performanti Intel riesce A sovraspendere La concorrente Riesce a spendere Molto di più Ricerca e sviluppo Rispetto ad AMD Perché se Nell'ultimo anno AMD Ha speso In ricerca e sviluppo 2 miliardi di dollari Intel ne ha speso 13 e mezzo Ok Quindi Se Intel Mette tra i suoi piani Di creare I migliori processori In assoluto E quindi Di prendersi La leadership Del mercato Come hanno deciso Di fare Effettivamente È questione di tempo Che tornano a fare Intel Che tornano a fare I leader Quindi Per concludere Io Ho comprato E ricomprerei ancora Intel Tra le due Nonostante Al momento Sono consapevole Del fatto Che AMD È più Performante Più prestante Come azienda Ma Intel La vedo Un migliore A fare Per il lungo termine Allora ragazzi Fatemi sapere Se questo video Vi è piaciuto Ma soprattutto Quale delle due Scegliereste voi Ditemelo nei commenti E se vi è piaciuto Questo video Un bel like È sempre gradito E ci vediamo Alla prossima Ciao da Davide Ciao da Davide